Ehi, dovrebbe restarti solo un quarto di riserva, vuoi risalire? No, ce la farò, non può essere lontano. Se non lo trovi subito, devi risalire. Lo troverò. D'accordo. Ehi, dovrebbe restarti solo un quarto di riserva. Forse ha colpito le rocce ed è rotolato. Ehi, cosa borbotti? Scusa, sembra un pezzo del relitto, non può essere tanto lontano. Musica per le mie orecchie, Drake, continua. Eh, eccolo, l'ho trovato. Bene, com'è messo? È malconcio, ma integro. Ho trovato una cazza smarrita. Diavolo, controlla l'interno del rimorchio, vedi quante ne mancano. Recevuto. Torno indietro. Ok, ecco qui. Fatto. Buongiorno, ragazzi. Ok, sono dentro. Bene, la maggior parte è ancora qui. Vediamo. Una, due, tre... Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse. Vado a recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? Ho già trovata una, l'altra non può essere distante. Eh, eccola, ho trovato l'altra cassa. Devo esserci passato vicino anche prima. Merda, la cassa è incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così. Occupati prima dell'altra cassa, poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strapagato. Eh già. Ok, ho recuperato la cassa che avevo trovato. Bene, ne manca una. Fissala nel rimorchio, siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Bene, una cassa è a posto. Tempismo perfetto. Siamo sopra di te e la gru sta scendendo. Stiamo scendendo. Ok, è in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo un po'. Ok, io ho il cavo. Provado ad avvolgerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare. Sì. Uno è andato. Bene, occhio all'ossigeno adesso. Va bene. Va bene. Il secondo è andato. Ok, il rimorchio è pronto. Perfetto. Allontanati, lo solleviamo. Quando volete. E adesso ci siamo. Ok, è sufficiente? Sì, è a posto. Fatemelo cadere addosso. Non posso promettertelo. Ok, ho l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Dai, forza. Così. Oh, mamma. Il carico è al completo ora. E con cinque minuti di ossigeno avanzati. Piamine. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori qui. No, può bastare così. Un passaggio? Sarebbe gradito. Dimmi quando sei sulla crew. Ok, ci sono. Tiratemi fuori. Ricevuto. Risaliamo. Guarda che splendore. Come ti senti? Meglio, ora che sono uscito da un fione. Alzerò di pesce per una settimana. Ok. Stiamo arrivando. Resisti. Sono pronto. No, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! No! No, ragazzi! No, ragazzi! Andiamo! No! Bentornato, Drake Sì, è bello tornare Lancia l'attrezzatura Arriva Grazie La bambola è leggera come una piuma Cerco di agevolarti il lavoro Amico mio Sì, mi serve una firma Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma Ti stai mettendo tutti in cattiva luce Mi sto mettendo in buona luce Allora, quando pensate di finire? L'abbiamo appena tirato fuori dall'acqua Ci vorrà almeno un'ora Vedete di darvi una mossa? Abbiamo altre navi cargo in attesa Sarà fatto Struzzo Ok, andiamo Il governo è indietro di dieci anni Qui finiremo dopo Il mio eroe Andiamo Vediamo chi hai preso Ehi, la prossima volta Intanto guardiamo qui A te l'onore Sì, certo Grazie Wow Guarda un po' Abbiamo del rame Non hai idea di quanto valga questa roba Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro Non vuoi fonderlo E farne dei centesimi Dai, andiamo a festeggiare Offro il primo giro Venire a bere con voi No, no, no Non ho più il fisico Se non ti spiace Sbrigo le scartoffie E poi Crollo sul divano Un'altra volta? Ok Come vuoi Ehi Bel lavoro oggi Grazie Rame Ehi, ehi Nate Nate, aspetta Ehi Che ci fai qui? Ho un regalo per te Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel rilitto sommerso in Malesia Oh no La nave è intatta Sì Basta solo prendere il carico Sei un tipo tenace, devo ammetterlo E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento È tutto pronto Tranne il mio uomo migliore L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio Primo i conigli sono creature adorabili Secondo il contatto Hai permessi? No, non hai permessi Senti, nessuno otterrà quei permessi Certo che no Ma Nate, non capisci che gioca a nostro favore Niente permessi, niente concorrenza La nave è nostra Niente permessi, niente partenza Nate Sarebbero i soldi della pensione Abbastanza per entrambi Non so come la vedi tu Ma non ho intenzione di recuperare Rotami fino a 60 anni Tu si? Meglio della galera Ora 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 Senti Io mi tiro indietro E dovresti farlo anche tu Ok, ma tienili tu Fallo per me, dai Guarda che non cambierò idea Ti chiedo di dormirci su Va bene Saluta Carlo e i ragazzi da partire Ok Senza impegno, Nate Ma pensaci su Hai studiato da bravo scolaretto Hai ristretto l'area di ricerca Sarebbe la scoperta del secolo Figlio di puttana No, no, non si può Tu finirai in mezzo agli altri